Ciao a tutti, in questo video spiegheremo le lime Crystal Nails, uno strumento indispensabile per la modellatura della resina, gel, acryl gel, acrilico e qualche volta anche semi permanente. Iniziamo subito con la lima Zebra, una lima realizzata con una carta abrasiva molto delicata, proprio per questo la lima è destinata all'opacizzazione della lamina e comunque nel trattare la resina per definirla. Una versione un po' più abrasiva e più avanzata tecnologicamente parlando proprio della carta è la lima Extreme, dove tutti i bordi essendo taglienti saranno perfetti per trattare la modellatura di qualsiasi tipologia di resina rigida. Come per la lima Zebra la possiamo trovare in altri gradi di abrasività, quindi troviamo la verde, la blu e la fucsia e la rossa. Subitano un'altra tipologia di lime, le Iron X. Queste lime a differenza delle altre possono essere sterilizzabili e possiedono, come potete notare, a loro volta più gradi di abrasività. Una volta presentate le lime per la modellatura passiamo invece a quest'altro tipo, molto sottili con un grado di abrasività bassissimo. Sono delle lime che ci permettono di inserirci proprio negli angoletti e negli spazi più nascosti. Sono delle lime molto molto morbide e ci aiuteranno a definire la struttura. Nell'ultimo passaggio invece vedremo i buffer che sono destinati alla levigatura della superficie. Questo è il buffer più classico, il più avanzato di tutti è quello della linea Iron X, che è quasi una vera e propria lima con un grado bassissimo di abrasività. Riesce a modellare anche il semipermanente. Io lo amo. Superficie super liscia, semipermanente definito. Quindi non stare lì a pensare e provare assolutamente qualcuna e rimarrai sicuramente entusiasta. A presto.